Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti di amici di questo canale che c'è un nuovo post qualifiche di Formula 1 Signori, signori, Charles Leclerc, Charles Leclerc è in pole position, è in pole position per l'undicesima volta in stagione, signori è in pole position seconda, undicesima pole in carriera, seconda in stagione, è in pole position emozioni diciamo chiaroscure per la Ferrari in quanto appunto Leclerc che ha fatto la pole position ma Sainz ha avuto sfiga e un suo errore partirà domani nono è una situazione che è un po' complicata per Sainz e anche per la Ferrari a livello di strategie comunque rivolgiamo il nastro e in questo GP non c'è stata la predominanza Ferrari a livello di motori a livello di diciamo scuderie satellite in quanto appunto Alfa Romeo e la AS in questa pista Melbourne pista modificata, non so, non vedete veramente quasi tutto, è stato cambiato praticamente come si imposta il circuito non è riuscita a imprimere la predominanza che ha avuto nei primi due Grand Premier in Bahrain e in Arabia Saudita infatti per esempio Kevin Magnussen out in Q1, Schumacher, Bottas e Zou addirittura in Q2 nessuna, gli unici motorizzati Ferrari erano appunto le Ferrari in Q3 quindi c'è stato un ridimensionamento a livello motoristico diciamo delle scuderie satellite di Ferrari invece le motorizzate Mercedes fanno forse uno step in su cioè non Alfa, Alfa, Aston Martin e Williams che sono veramente le due peggiori macchine del circuito però la McLaren riesce a fare un ottimo, un ottimo step in su riesce addirittura a portare due macchine in Q3 e partirà domani appunto quarto non si riesce a sfruttare diciamo la mancanza della Ferrari in quarta posizione e addirittura Ricciardo nel Gran Premio di casa in settima posizione se non ricordo male che dire ragazzi poi le Glerk fa purtroppo, eh purtroppo l'Alpine non riesce a mettere la stoccata perché sembrava essere la terza forza diciamo di questo Gran Premio con Alonso sempre lì addirittura, mi sono sfruttato poco fa poco fa, ormai due anni fa con Alonso che in FP3 addirittura aveva messo la macchina in seconda posizione quindi sembrava poter ammire a diciamo una seconda fila così non è stato perché appunto Alonso all'inizio Q3 mette la macchina nelle barriere e quindi si gioca diciamo la possibilità di entrare diciamo in seconda fila e invece Ocon non riesce mai a diciamo prendere il massimo la massima prestazione dalla macchina e si deve accontentare alla fine di un'ottava posizione addirittura al di sotto diciamo delle due McLaren che sono nate diciamo hanno fatto tutto questo Gran Premio visto appunto i due Gran Premi precedenti dove avevano fatto delle prestazioni abbastanza ridicole vedremo domani con il passo gara le Mercedes invece fanno un'ottima prestazione cioè un'ottima prestazione per quanto riguarda diciamo i loro precedenti in quanto appunto già l'agenda Edithon era stato fuori dalla era rimasto in curo quindi è diciamo tra virgolette un passo avanti ma non di quelli che ti giro minchia bello stiamo migliorando sono sempre lì però non ha quello il loro ambiente anzi hanno peccato da Norris sono fermati dietro da Norris effettivamente con Edithon che riesce all'ultimo tentativo a stare davanti al compagno di scuderia George Russell e partiranno quinto e sesto uno in punto in terza fila e l'altro in... no uno in... in terza fila eh sì in terza fila forse sarebbe qualcosa ma comunque passiamo invece alle Red Bull e le Ferrari sembrava ad un certo punto soprattutto dopo la Q2 mi pare a fine Q2 con un 1-2 come si chiama? Red Bull che potessero appunto le Red Bull avere quel passo in più che gli potesse permettere anche di poter fare un 1-2 così non è stato perché Leclerc ha messo praticamente il giro perfetto perché se qualcuno combinava i migliori intertempi di tutti i piloti e prendeva appunto il giro perfetto che potevano combinare nei piloti bene o male si arrivava al giro che ha fatto Leclerc quindi Leclerc è arrivato a un niente dal giro perfetto dal giro perfetto chapeau a Leclerc Perez che è sempre stato anche lui in grado di poter prendersi in pole position perché nel primo tentativo di tutti i piloti è rimasto dietro a Leclerc di un solo millesimo letteralmente un millesimo non so quanto possano essere in una diciamo in una qualifica di Formula 1 un millimetro non lo so ma veramente un millesimo rimanere dietro di un millesimo io non riesco a concederlo perché un millesimo non so neanche quantificare un millesimo non è niente cioè letteralmente un attimo cioè una scintilla assurdo è Verstappen che diciamo nell'ultimo tentativo si deve accontentare di stare addirittura due quasi decimi di ritardo delle Leclerc domani sarà un'ottima gara domani sarà una gara da tipi tosti perché alle 7 di mattina ragazzi mi accorgono mentre della sveglia sarà una gara importante perché Leclerc parte primo dovrà difendersi da due Red Bull e non avendo appunto nessuno dietro diciamo diciamo non avendo il compagno di squadra dietro che lo potrebbe supportare a livello di strategie vedremo la Sainz cosa farà se riuscirà nei primi giri a riuscire a superare più piloti possibili tentare almeno di arrivare quarto perché in ottica mondiale costruttoria è importantissimo che Sainz risalga posizioni vedremo la Mercedes il passo gara come sarà se Norris riuscirà a mantenere la quarta posizione ci saranno tante tematiche da analizzare e da osservare attenti ovviamente a Leclerc contro le Starpen perché ok che hanno due decimi di vantaggio però la Ferrari soffre di poor poisoning di saltellamenti quindi su 50 giri 50 e più giri quel saltellamento che distrugge il collo saranno più allenati io non riuscirei a fare neanche due metri come la Formula 1 neanche potrei metterle in moto con la B-MED loro sono allenati però comunque si vede come saltella la macchina e quindi la Ferrari in questo GP soffre molto di più rispetto alle altre scorse il saltellamento quindi vedremo come reagirà il corpo del pilota a tutto a questo sforzo fisico vedremo domani sarà una gara ripeto l'ho detto 10 volte da seguire mi raccomando sali con la Formula 1 e questa stagione è bellissima soprattutto perché c'è la Ferrari like iscrizione attivate prima per perdere il nostro video andate a vedere e a me non ho parlato di stroll metterle tutte le cose che sono successe sono latifi perché vabbè sono dei meme non c'è bisogno neanche di analizzarli perché non lo so fanno tutto ora comunque domani ciao